Ciao a tutti ragazzi, qua FeduTutorial e sono tornato con questo nuovo video davvero molto veloce in cui ci tenevo solamente ad informarvi che ho aperto un nuovo canale telegram in cui potrete unirvi per non perdere nessun aggiornamento del canale e per ricevere le notifiche del mio canale in un modo un po' più veloce. Per unirvi è semplicissimo basterà cliccare nel link che vi metterò nella descrizione di questo video oppure semplicemente come state vedendo in questo caso cercando FeduTutorial su telegram troverete semplicemente un canale basterà cliccarlo e unirvi oppure semplicemente cliccate il link in descrizione. Quindi ragazzi per questo video davvero molto veloce è tutto noi ci ribecchiamo tra qualche giorno con un altro tutorial. Ciao raga!